Il fatto è questo, l'igiene orale è importante, troppe persone non se ne preoccupano Neanche te sembrerebbe Ed è per questo che oggi ti spiegherò come lavare i denti come uno di quelli veri Così che il tuo sorriso passerà da così a così Ciao, sono Sijon Cominciamo Primo punto Almeno tre minuti Mi rendo conto che farò qualcosa per tre minuti, ti possa sembrare un'eternità Comunque sì, tre minuti è il minimo Ci sono due tipi di persone al mondo Quelli che ammettono di non lavarsi i denti per tre minuti e i bugiardi Punto due Segui questo video con il telefono in una mano e lo spazzolino nell'altra Rendi questo gesto una routine Rendi questo gesto una routine Rendi questo gesto una routine Punto tre Scegli dove lavarti i denti Il bagno è fuori discussione, quello serve per i selfie Scegli un posto che ti faccia sentire a tuo aso e... Scegli un posto che ti faccia sentire a casa e a tuo agio Tipo la casa del tuo sosia Figlio Che cazzo ci fai a casa mia? Forse mi lavo i denti? Duh Ma certo, che stupido Vai pure avanti, vai pure avanti Punto quattro Prima di pulire i denti Sporcali È probabile che tu non abbia bisogno Ma se dovessi farlo Sporcali ora Punto cinque Scegli il tuo spazzolino Ci sono molte alternative Probabilmente quella che preferisci è la migliore Ci sono il classico L'elettrico Il gigante E poi il mio preferito di tutti Il cucchiaio Punto sei Lava il mestolo per nessun motivo apparente Punto sette Cospargi il tuo cucchiaio di una dose opportuna di dentifricio E visto che i tuoi denti fanno schifo Un tubetto intero è opportuno Dosi opportune mi raccomando Punto otto Annegati di dentifricio Mi vuol da prenderlo tutto quanto Punto Punto nove Ingoia il dentifricio Così da attivare l'azione pulente fino all'esofago Punto dieci Sorridi Perché ora la tua bocca non è più considerata letame E se per caso hai un dente che ti dà fastidio come nel mio caso Fai schifo Non fare l'eroe Vai dal dentista Sbrullami un like se oggi hai imparato qualcosa E commentami con la tua routine dell'igiene orale Posso imparare anch'io Chiudo il video con una piccola curiosità sull'igiene orale Le brave ragazze lavano i denti due volte al giorno Le cattive Tre Hashtag gifek Di che cazzo parlano la prossima volta? Fammi sapere Questa è la John Slick Non dimenticare di cliccare l'uccello Uuuuuh Grazie a tutti